oltre ragazzi da box oggi vogliamo fare lo showdown con il civic è il 246 oggi ci dedicheremo solamente a questo e vedo un gtr però non mi ricordo se quando è uscito sto gioco c'era già il gtr e sinceramente non ve lo perdete c'è un altro bel video battle machine carichiamoci il tfv8 baby miglior sito del mondo come a parere vediamo chi c'è un rio guata nave guata abbatta qualcosa guata guata ma la bella però sono il top top dei top c'è niente da fare quant'è la mia batteria è ancora abbastanza scarica io riesco a fare una cosa non ce la faccio vabbè venti gara aderenza settore eliminazione facciamoci un settore eliminazione questo è molto bello come gara molto a mio parere molto molto competitivo togliamo il mouse da qua cristo 415 sono tutti i milioni di cavalli volumetrici questi piccoli veramente secco batteria della webcam bella alta ancora ah è infatti è più riesce arrivare velocemente a un punto più hai punto il punteggio io qua me la cavo devo dire molto molto bene in questa pista è molto molto veloce quindi una gara che dura ancora poco sono già primo anche perchè chi è chi fa a tutti effetti chi fa il giro più veloce a tutti effetti se li batti tutti quanti hai un bonus sul punteggio questi qua su le curve sono veramente troppo fermi l'altro invece sta andando molto bene sta andando più troppo bene vado dito più 500 punti quindi gli altri dover recuperare più di 500 punti oltre a più 80 si miglioriamo ancora 2.131 punti non la cavo per niente ma come va ho sbagliato non ho ancora usato il nostro tutto loro qua prendono veramente troppo qua facciamo pinzata 312 punti roba tutto bam altri 500 ho 3.100 punti non me lo sto trovando per niente per niente male ho fatto una schifezza mostruosa e qua si vede proprio in accelerazione così una mancanza di cavalli o di turbo quindi i cavalli adesso qua non li recupero vabbè non li recupero mai più sto spaccando il mondo vabbè non lo batto mai più ma non ho bisogno di battere veramente troppi troppi punti il secondo è a 1.100 insomma tre volte in più non lo batto nonostante tutto e ho vinto classico ho vinto di nuovo se no io vorrei dominare lo showdown guarda lo show cazzo qua ho tutto recosto tacciato anche perché non l'avevo mai fatto quindi non male prova tempo un quarto di miglio lo faccio però io farei un'aderenza facciamo una gara di aderenza? si voglio continuare lo stesso con la macchina danneggiata tanto la ridanneggio no problem mi sembra che se domini qua vince veramente un sacco di soldi mi servono anche 425 il dolce orge vabbè 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 di più sono arrivato troppo come uno stesso qua 3 giri questa è una gara molto lunga fidate questa è una gara lunghissima ok ma dove c'è patela ok 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 a cannone ha 7000 giri fissi questa parte mista è molto divertente per chi gioca però con la mia macchina sono tutte parti orribili spero che mi vediate bene settato in full hd quindi dovrebbe registrare molto molto bene dovrebbe avere 1080p per 60 frame la webcam un audio l'audio è dei migliori consigliatemi se posso collegare un microfono alla webcam ok 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 questa canzone è la più bella del mondo la riusciamo veloce bravissima questa è una cura molto veloce c'è un buio in casa mia come neanche vi immaginate veramente fatto di nuovo settore che patela che che botta che ha preso io la devo aggiustare qui dopo eh oh madonna santa è completamente a pezzi perché non so se aggiustarla perché poi la ridannei perché lì avete visto è partita di culo non ce l'ho fatta tenerla è buono è andato a pezzi bravo così bravo così grande bravo così grandissimo culo del naso ok 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 e un'altra che fanno due ok bella frenata però devo dire eh la 246 è una frenata veramente ottima 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 veramente ottima veramente ottima non male non male no 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 questo vediamo di prenderla bene usciamo forte l'ultimo giro eh siamo a 7 minuti non male non male qua se vai tendo a tagliare troppo ho già i 100 loramili prima da zero 18 secondi 20 secondi dal secondo vi ho dato io sto giocando male sono tutte gare in solitario ancora poi dopo diventeranno molto difficili un po' più meno molto un po' più difficili contro il primo boss è una fesseria tra un secondo voilà 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 dopo voilà 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 ok 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 not bad not bad hopla 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 è indistruttibile il retro Cristo ma vedete è indistruttibile sta macchina è immortale attacchette sempre due si scarica mai fantastico ormai è fatta ormai abbiamo vinto no problem uscita molto lenta non mi interessa adesso la risolviamo questa macchina è arrivata sta macchina era completamente a pezzi eh 3.000 si comincia a guadagnare dei soldi eh o 72.000 ok ok voilà sono una pura 200 cavalli c'è anche uno con 288 Joe Tuckett Joe Tuckett è già la quarta volta che provo a bastonarlo e ci riesco quindi un po' questo è il quarto di miglio ci facciamo una puntata solo sullo showdown oggi eh poi ci fa iamo i due i due i due i due i due i due metterti i due i due i due i due i due i due Chevelle con 455 cavalli dovrebbe darmi via un po' da qua subito Subito deve darmi via, o meno così Dopo lo showdown cominciamo ad avere dei piccoli Ma piccoli problemini, eh Una schifezza Ha vinto lui Lui ha fatto molto meglio di me 12,78 Sono sempre primo Joe Tuckett col Civic, eh, però Joe Tuckett Joe Tuckett col Civic Eccolo va il Civic Di Joe Tuckett, lo fa picchia Picchia veramente secco Pam, pam, pam Vediamo di battere ancora un'altra volta il record Voilà 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 Data meglio 12,81 Mi sono portato bene Ho fatto veramente un tempone, eh, stavolta Un bel tempone Ah, non l'ho ancora vinto Cora, Civic, via Fuori di coglioni S3 Con 218 cavalli 9 Lei c'è un bel pulitino morbido Lo provo per 12 minuti Eh, voilà Voilà Dai, dai, voglio fare ma Massima aderenza, te prego Non ce la faccio Eh, lui ha 4x4, però, eh Falsa partenza Falsa partenza Dai, è partito mezz'ora prima di me Palla, sono arrivato al massimo 18,64 è veramente basso il mio punteggio Devo fare meglio Quanto alle RSI 300 cavalli Matura Vediamo un po' Cosa riusciamo a tirarlo fuori dal cappello magico Vediamo la raioccuper cosa a fare Bamba è massima aderenza, signori Vediamo un po' Ultima partenza Dove metterla in quinta, però Quarta, però devo scaricarla dritta Arrivo al massimo 274 273 274 18,64 Wade Jackson, signori Wade Jackson picchia Wade Jackson Con il 246 No, dai Impossibile Come fa? Ah, hai i cavalli tuoi sull'altra Beh, ha 100 cavalli in più, eh Però battere così tanto in gara di accelerazione non esiste, dai Massima Anche stavolta Un po' Sì Guardalo Bam Grande recupero, signori 18,84 Fa cagare Abbiamo fatto 19,34 Sono primo Vittorio Quanto mi dai? Sempre 3,000 Sì, non vi dovete vedere Quando fa così perché si è aperto un altro Ok ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui Spero che il video vi sia piaciuto Come solito lasciate un commento mi piace Anche la pagina di Facebook che mi aiutate nella descrizione Adesso ne rifacciamo subito un'altra Ciao a tutti Ciao a tutti